Si corre per beneficenza ad Albignasigo nel Padovano. Al via venerdì l'ottava edizione di Emozioni in Corsa, la manifestazione podistica ludico-motoria per raccogliere fondi da donare alla città della speranza. Un vero e proprio momento di aggregazione e condivisione solidale per una grande causa. Quest'anno si prevede anche di battere il record di allegria, di divertimento, di sorrisi e di persone coinvolte, grazie alle attività proposte dal Photopoint alle Polaroid ricordo regalate ai partecipanti, ai pacemaker con differenti ritmi di corsa e poi litri di birra per tutti i runners. La corsa sarà inoltre arricchita da un percorso colorato in cui i partecipanti verranno inondati lungo il tragitto da polveri vario pinte con l'obiettivo di coinvolgere le famiglie in un momento magico di aggregazione e condivisione, allegria e spenseratezza. E questo è un evento particolare perché affianca alla parte diciamo tipica sportiva anche una parte sociale importante a cui noi teniamo tantissimo, dove appunto tutto il ricavato dell'incasso viene dato in beneficenza. Il gruppo politico donatore di sangue mette sul campo circa un centinaio di persone, abbiamo coinvolto altre associazioni del territorio che portano altri 50-60 persone, quindi in tutto siamo circa 160 persone che quella sera opereranno sul territorio. È fondamentale visto i bellissimi risultati economici ma principalmente visto la bellezza del contatto con i giovani che sanno che esiste il vero volontariato, la vera beneficenza che dà frutti importanti specialmente in questo caso sulla salute dei bambini. L'evento che vuole coinvolgere sportivi e famiglie è stato ideato da un'azienda leader nel commercio di materiali di finitura edilizia di Albignasico, fortemente impegnato nella raccolta fondi. L'emozione in corsa nasce perché noi già da diversi anni nel nostro evento aziendale dedicato a tutti i nostri clienti, facevamo una raccolta fondi che poi destinavamo alla Città della Speranza. Ha sempre avuto molto successo, però volevamo fare qualcosa in più, estendere questo bene anche alla comunità di Albignasico e non solo. E quindi è nata Emozioni in Corsa proprio per dare l'opportunità a tutti di contribuire a questo importante progetto a cui teniamo davvero molto.